Siamo davanti ad una vera e propria emergenza nell'asla di Pescara. La causa è da ricercare nelle carenze croniche di personale, nella fatiscienza delle strutture e nella pessima organizzazione delle risorse, una spirale di inefficienze che si traducono in una realtà fatta di disservizi che l'utente finale è costretto a sopportare sulle proprie spalle dinanzi ad una regione inerme e sorda alle esigenze dei pazienti. A presentare la disamina della situazione sanitaria in provincia di Pescara è stato il vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari che questa mattina ha tenuto una conferenza stampa nei pressi del pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito con alcuni cittadini fra cui familiari delle vittime del covid che settimane fa avevano manifestato nei pressi della regione Abruzzo. Sì siamo presentato un focus dettagliato sull'as di Pescara che nello specifico ospedale di Pescara penne popoli distretti sanitari di base. Andiamo subito sui distretti sanitari di base che sono gravemente depotenziati ma fatiscente Pescara Sud e Montesilvano insistono in strutture fatiscenti dove mancano personale mancano macchinari quelli che ci sono sono obsoleti e quindi inevitabilmente non funzionando la medicina territoriale si riversa tutto all'interno dell'ospedale di Pescara pronto soccorso reparti con accessi inappropriati abbiamo decine e decine di codici bianchi nel pronto soccorso che non dovrebbero entrare non dovrebbero stare lì dovrebbero essere trattati nella medicina territoriale a questo aggrava la situazione gli ospedali penne popoli penne nello specifico gravemente depotenziati che non riescono a garantire l'offerta sanitaria ai cittadini vestini della Val Pescara e tutto quel territorio sono costretti a riversarsi anch'essi nel pronto soccorso all'ospedale di Pescara quindi l'ospedale di Pescara è concessionato e scoppia letteralmente poi siamo andati nello specifico mancanza di personale nella medicina geriatria il polo incomatologico mancano i primari di ematologia e pediatria che sono due eccellenze devono essere immediatamente nominati addirittura c'è la sala d'attesa del polo incomatologico dove ogni giorno è piena di persone ammassate al caldo senza condizionatori una situazione devastante la radioterapia manca ancora la sostituzione l'acceleratore lineare i grandi sprechi e di superficie ancora ferma l'elisoccorso è costretto a fermarsi in aeroporto dall'aeroporto una navetta privata deve trasportare il polo di traumatizzato all'ospedale di Pescara la palazzina costata 2 milioni 800 mila euro nel 2014 ancora in abbandono e poi oggi con noi ci sono i parenti delle vittime ancora una volta di quelle persone morte in ospedale alle quali hanno rubato tolto sottratto gli affetti cari anelli catenini e quant'altro una cosa devastante alla quale non abbiamo ancora risposto e questo non va bene dobbiamo invertire immediatamente devono invertire rotta chi comanda la regione centro-destra